Il vero comportamento si è affrontato al civile, che sportivo e sanitario. Solo che si dovranno evitare gravissime attività che possono comportare anche la politica del campo di gioco e anche della società. Benvenuti! Il periodo sta andando in giro. In questo periodo stai andando in giro? No, si ha la casa in questo periodo. Il periodo sta andando in giro. Il periodo sta andando in giro. Il periodo sta andando in giro. Vai che non fanno nessuno, vai 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 che ci rimettiamo Grazie per la vita Grazie per la vita Sono sempre con voi, non mi lasceremo mai Cazzo al salvo, cazzo al salvo, cazzo al salvo, cazzo al salvo, ale ale Mangone No, non c'è Vai, 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 vai E' qua E' qua Vieni la luce, vieni la luce. Grazie a tutti Grazie a tutti